Il nuovo ciclo delle istituzioni comunitarie e la programmazione del prossimo budget europeo 2021-2027 sono alcuni dei temi al centro del convegno organizzato a Roma da EUNews e l'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. In linea con il prossimo ciclo di programmazione in Europa, il Fondo di Perecazione Infrastrutturale, punto centrale del provvedimento sulle autonomie. Intanto per far sì che le risorse possano essere vincolate al prossimo triennio sarà opportuno valutare se inserire l'emendamento sul Fondo di Perecazione Infrastrutturale in questa manovra. Con Provenzano stiamo lavorando per far sì che ci siano risorse più mirate alla lotta per la diseguaglianza. Sul rischio di tagliare politiche di coesione invece si è soffermato il Ministro per il Sud. Il piano per il Sud servirà a questo, non solo a fare più investimenti al Sud ma soprattutto migliorarne la loro efficacia e la capacità di metterli a terra, di farli arrivare direttamente nei territori anche in un nuovo rapporto, in un nuovo coinvolgimento degli enti locali. Sulla necessità di evitare i tagli la politica italiana potrebbe fare fronte comune. Non è un taglio per tutti i paesi, ma per alcuni in modo particolare, per l'Italia in modo specifico e per il Sud Italia in modo ancora più particolare. Quindi penso che sia giusto entrare nel merito di questa questione e soprattutto sia come Governo nazionale ma anche e soprattutto in Parlamento europeo sollevare questa questione per bloccare un rischio che certamente deve essere scongiurato.